e oggi un video complicato perché complicato il libro di cui andiamo a discettare si tratta di lords of chaos eccolo qui la storia insanguinata del metal satanico ora perché parlarne all'interno di broken stories dove in realtà di solito parliamo di narrazioni d'arche immaginifiche narrazioni mentre questo è un libro che insomma pianta i denti anche nel true crime e in altre considerazioni nel tema del satanismo dell'estremismo di destra dei crimini più efferati che vengono raccontati in questa storia che in realtà che fare è parte dalla nascita di un genere musicale perché parlarne perché il genere musicale in esame il black metal si nutre di tutto un immaginario che è quello appunto dark quello horror quello misticheggiante ci sono di mezzo nomi come quello di alester crowley o anton lave il fondatore della chiesa satanica americana eccetera eccetera insomma sono tutti temi che in qualche modo orbitano no nella nostra sfera di interesse in quanto lettori 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 lo sottolineo di narrazioni di romanzi di racconti che molto spesso no sono stati anche accusati di poter influenzare di poter generare nella psiche di qualcuno beh insomma delle dei dei moti distruttivi antisociali e il più delle volte voi sapete che io ho sempre difeso la posizione opposta e cioè che il fantastico è il fantastico e lì dovrebbe essere analizzato considerato e non come fonte di potenziali derive criminali ma qui purtroppo bisogna ammettere che le derive criminali ci sono state all'interno di un nascente movimento musicale che negli anni dalla diciamo metà anni 80 metà anni 90 si sviluppa in norvegia questo è un libro che sicuramente può interessare chiunque abbia diciamo una curiosità verso le tematiche oscure ma anche naturalmente verso un certo tipo di musica che personalmente io apprezzo parecchio questo fa di me uno psicopatico oddio spero proprio di no ok perché in realtà ci sono tantissime persone che ascoltano il black metal e sono dei fiorellini di campo quanto a diciamo gentilezza capacità di stare nel mondo andiamo ad analizzare questo libro che naturalmente consigliandovi vi dico che potete acquistare con un click qua sotto in descrizione dove vi metto il link ad amazon dentro amazon esiste anche lo shop di broken stories dove io seleziono testi pubblicazioni che possono solo far la gioia dell'appassionato di narrazioni d'arche immaginifiche andate a farci un vi un giretto e vedete se vi può interessare l'orso chaos dicevamo allora erano anni che io questo libro questo libro qui pubblicato in italia da tsunami edizioni volevo proprio leggerlo perché perché è un oggetto un po' proibito sì cioè mi incuriosiva il fatto che racconti una storia così diciamolo morbosa devo devo proprio riconoscerlo l'aspetto morboso di questa vicenda mi ha sempre un po' oscuramente attirato e volevo capirne di più per cui mi sono immerso la scorsa settimana in questa vicenda mi sono immerso nella lettura di lorso of chaos ho visto il film che ne è stato tratto ho guardato un documentario della norvegese che si trova su youtube che vi metto qua in link in descrizione di tre ore che quindi analizza anche altri aspetti e la storia di un gruppo di ragazzini il più grande dei quali ha intorno ai ma insomma 18 anni quando la cosa comincia stiamo parlando di oisten arset che poi prenderà il nome d'arte di uronimus e di batterista necrobatcher insomma nomi assurdi perché si prendono questi ragazzi si prendono molto sul serio sono metallari vivono in norvegia tra oslo e bergen comunque zone circostanti quindi insomma in un paese che metà degli anni ottanta così come oggi è un grande esempio di socialdemocrazia di benessere diffuso di una insomma di una società molto molto tranquilla e anche se vogliamo particolarmente noioso sì perché si sta così bene in norvegia che alla fine che qual è diciamo la vita che emerge dalla lettura di questo libro la vita tipica dell'adolescente o post adolescente in norvegia e quella in cui c'è ben poco da fare e il sabato semplicemente si fanno le vasche avanti e indietro per le strade principali della cittadina o della città avanti e indietro in macchina o a piedi ascoltando musica commerciale si fa a gara chi ha i vestiti più belli e chi ha la macchina più più costosa che poi è il ritratto di una di una noiosissima vita adolescenziale in ogni nazione sviluppata ma i ragazzi che ascoltano l'heavy metal i nostri diciamo protagonisti di questa vicenda sono anche dei ribelli senza causa i classici ribelli senza causa che cercano qualcosa di più ecco questo comunque è un tratto comune a tanti giovani a tante persone che secondo me hanno quel qualcosina in più che si rendono conto no che che questo stile di vita non fa interamente per loro che lì all'interno di questo benessere consumistico non si riconoscono del tutto e quindi vanno in cerca di stimoli di emozioni diverse e lo trovano nella musica nella musica più dura nella musica più oltransista all'interno del metal che in quegli anni era veicolata rappresentata da alcune band che possiamo anche citare i venom che sono inglesi e che avevano tematiche all'interno delle loro canzoni abbastanza brutali e anche piuttosto grossolane lasciate che ve lo dica per quanto io mi diverta molto ad ascoltarli avevano sempre queste tematiche sataniche e sono loro a coniare la definizione di black metal invocazioni a satana tutte queste cose molto da film se volete da film pulp o comunque da film di serie B da magnifiche produzioni della Hammer o di altre case di produzione che insomma navigavano in questo in questi oceani di sangue finto per raccontare storie gotiche insieme ai venom altri gruppi come gli slayer che nascevano in quel periodo che anche che a loro volta sguazzavano in tematiche sataniche o beh c'erano anche i naturalmente i merciful fate king diamond il loro leader e cantante si pittava la faccia e sfoggiava croci rovesciate classici simboli satanici tutti più o meno tutti questi artisti usavano queste tematiche come oggetti diciamo come come temi come chiavi di una certa teatralità ma anche per fare scalpore e attirare l'attenzione ovviamente attirando l'attenzione vendevano più dischi ma per esempio i venom hanno sempre dichiarato che non si sono mai considerati satanisti era semplicemente un grande circo esattamente come il wrestling dove ci si picchia per finta e tutto questo come sappiamo nel heavy metal e nel metal in generale queste tematiche sono sempre state una costante fin dall'inizio fin dai black sabbath non a caso tutti loro non satanisti ma semplicemente diciamo narratori di un dark musicale cosa succede però in norvegia in questi 1987 circa mi pare è che alcuni ragazzini si mettono insieme per fare musica come vi dicevo non c'è molto da combinare a oslo questi ragazzi hanno studiato musica sanno suonare e questo va messo in evidenza come un valore si mettono insieme e inventano insomma una band che chiamano mayhem e si mettono a suonare un genere molto molto duro molto transista molto estremo che vuole essere un metal horror fondamentalmente un metal horror il loro leader è appunto il più grande il più adulto che si chiama oisten arset e fino a che non trovano diciamo anche un cantante che viene da non mi ricordo ma da un'altra città non da oslo era svedese ecco sì era svedese che prenderà il nomignolo il nome d'arte di dead insomma la band non decolla ma poi arriva dead arriva questo dead che si chiama in realtà pelle un ragazzo molto molto problematico soffriva sicuramente di una grave forma di depressione ma era anche un cantante beh diciamo era un cantante adatto a quella band cioè uno di quelli che che ruggiscono che che inveiscono che 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 più che cantare danno forma un'angoscia una espressività lacerata straziata i mayhem diventano un fenomeno all'interno della loro diciamo scena abbastanza ridotta ma molto fervente di ragazzi metallari che si vestono di nero con le borchie con i giubbotti di pelle che vogliono divertirsi ecco io leggendo questo libro mi sono anche emozionato pensando a me stesso quando suonavo la batteria esattamente in quell'età lì e ci credevo ci credevo a oltranza in quello che facevo ok non era un metallaro era un brocchettaro ma vedete a quell'età lì in quell'età lì quando vi mettete a suonare con degli amici e inventate componete dei pezzi e siete creativi e vi immergete in tutto un immaginario musicale artistico eccetera diciamo la verità è come innamorarsi è come innamorarsi quando si è così giovani tutto diventa più vero del vero più importante di qualsiasi altra cosa ed è quello che succede a questi ragazzi che si inventano però un genere musicale beh che fa della malvagità e della paura i temi centrali temi chiave musicalmente bisogna dirlo molto molto creativo molto molto interessante e ascoltare anche oggi a distanza di più di 30 anni le prime composizioni dei mayhem sorprende a meno che cioè si sia proprio indisposti verso quelle sonorità il black metal come ha giustamente un documentario che nel documentario che metto qui sotto in descrizione il black metal sfida molto l'ascoltatore e richiede molte ore molto tempo per sviluppare un nuovo modo di ascoltare superata questa fase questo diciamo questo limite che è proprio fisiologico ed è anche culturale perché cavolo non siamo abituati a certe sonorità se si riesce a superare quel passaggio difficile poi si inizia a sentire questa musica la si inizia a udire veramente i mayhem erano dei ragazzi molto talentuosi erano artisti su questo non c'è niente da discutere ed è quello che manca in lords of chaos cioè la secondo me il riconoscere che comunque stiamo parlando di artisti autentici con tutte le loro problematiche personali col fatto che erano giovani sì un po ingenui ma come tutti i giovani attenzione come tutti i giovani e come tutti i giovani artisti che hanno fatto grande la storia dell'arte dalla letteratura la pittura la scultura tutto ok bene questi ragazzi inventano veramente delle nuove sonorità e anche un nuovo approccio alla musica in un paese così pacifico così tranquillo che il contrasto è incredibile è veramente incredibile e chiaramente aggregano intorno a sé tutta una compagine di giovani che non vedevano l'ora di trovare una nuova bandiera musicale intorno alla quale aggregarsi una nuova possibilità di identificazione di riconoscimento tribale e queste sono tutte dinamiche che fanno parte della giovinezza ma fanno parte anche della maturità se pensate anche soltanto all'appartenenza a una squadra di calcio e a quanto questo possa fomentare anche la violenza o anche comunque una passione travolgente dobbiamo riconoscere che certe dinamiche fanno parte dell'animo umano e o comunque della nostra natura ok nella nostra natura di esseri sociali il problema è che manca a questi ragazzi una forma anche di come dire relativismo ecco un relativismo che forse è figlio di una di una successiva maturazione che insomma avviene col tempo il relativismo negli adolescenti non esiste quindi questo black metal questo tipo di sonorità diventano un culto una forma di culto una forma di setta un cerchio una cerchia un circolo che sarà proprio definito il black circle di ragazzi che in mancanza di qualcosa di più allettante lì dentro iniziano a costruire le proprie regole il proprio linguaggio i propri costumi i propri usi e costumi e quindi purtroppo iniziano a esagerare e questo è il punto iniziano a esagerare e badate nella storia dell'arte questo è avvenuto tante volte e così la completa totalizzante adesione a uno spirito a un'idea e può produrre in in tutti i casi quale che sia l'argomento può produrre guasti danni perché si tratta di un estremismo e tutto ciò che finisce con ismo può non necessariamente lo fa ma può produrre conseguenze nefaste fateci il caso bene i nostri amici iniziano con l'arrivo di un ragazzo di bergen che si chiama christian e che poi prenderà un altro nome assumerà un nome d'arte che è varg cioè lupo in norvegese e iniziano a perdere un po la trebisonda cioè non solo fanno musica esibendosi con successo che ha sonorità deliberatamente teatralmente malvage ma iniziano ad accarezzare proprio la confondono la immaginazione con la realtà è quello che succede ecco fondamentalmente quello che succede quindi la loro vocazione satanista la loro il loro considerarsi devoti a satana deve in un escalation che è tipica di alcune tribalità giovanili dove ognuno deve dimostrarsi più forte dell'altro dell'altro questi sono quasi tutti sono tutti maschi attenzione qui c'è molto testosterone in ballo bene questi ragazzi fanno a gara chi nella realtà si dimostra più degno della insomma del titolo di praticamente di re del black metal o comunque degno di essere all'interno di questo di questa setta perdono di vista l'obiettivo principale che era quello di creare una band musicale e avere successo e farne un mestiere e diventano invece l'uno il sobillatore dell'altro alcuni di più per commettere atti criminali e la norvegia di quegli anni primi anni 90 si risveglia al bagliore delle chiese in fiamme perché appunto il nuovo arrivato questo ragazzo di bergen che è una cittadina tranquillissima universitaria considerate che stiamo parlando di un ambiente di un ceto medio molto benestante ok dove fondamentalmente questi ragazzi a questi ragazzi non mancava nulla material dal punto di vista della del benessere materiale ma sicuramente mancava molto dal punto di vista delle delle degli stimoli spirituali della di una di un benessere simbolico ecco tutto questo diventa un inferno simbolico le chiese iniziano a bruciare perché uno di loro questo questo rinominato si varg comincia a bruciarle e ed è una storia orribile perché tra l'altro la prima chiesa a bruciare è un monumento di 800 che ha 800 anni di storia una chiesa tipica della delle zone norvegesi che praticamente è veramente un monumento è anche un il simbolo più importante della con del contributo dell'architettura norvegese alla storia proprio dell'arte ok le chiese bruciano si comincia da lì e poi continuano a bruciare perché diciamo che questo questo spirito di emulazione terribile si diffonde si diffonde mentre questi ragazzi si incontrano sempre all'interno di un negozio un negozio di dischi fondato da oist and arset che si è appunto che il chitarrista dei miam si è ribattizzato ironimus crea un negozio di dischi diventato famosissimo ancora oggi esiste è stato riaperto dopo la chiusura è un oggetto di pellegrinaggio per i metalheads di tutto il mondo si chiama elvete elvete vuol dire inferno tutto molto semplice i simboli sono sempre gli stessi ok all'elvete si radunano tutti questi ragazzi che comprano dischi e badate bene oisten arset che si definisce satanista e che in realtà è comunista ma comunista devoto ai peggio dittatori da ciausescu di cui ha una foto nell'ufficio a stalin eccetera bene questo questa incarnazione della bestia è aperto il negozio grazie i soldini di papà che glieli ha dati così come varg che poi diventa appunto il titolare del brand diciamo così del moniker burzum anche questo ormai un classico nel black metal cioè il regista dei dischi come burzum come ci riesce grazie ai soldini che gli da la mammina cioè nel senso non voglio ridicolizzare la cosa e che vorrei farvi notare che sono persone assolutamente normali che a un certo punto si fanno in qualche modo inseminare da delle idee che diventano secondo me soprattutto perché erano ragazzi molto impressionabili intelligenti creativi eccetera ma molto impressionabili diventano beh insomma una gabbia intellettuale dalla quale non riescono più a uscire perché la realtà è quella sì che abbiamo fuori di noi ma soprattutto è quella che abbiamo dentro di noi e che ci ci impedisce di vedere alcune cose ci impedisce di trovare delle soluzioni e allo stesso tempo arricchisce la nostra vita di una specie di mitologia all'interno della quale della quale ci ci muoviamo bene loro si muovono all'interno di una mitologia fatta di simboli di malvagità fatta di adorazione per il demonio che badate secondo me veramente più è stata più una cosa goliardica in principio ok tanto per essere ribelli in maniera oltransista loro prendono sul serio quello che i venom e gli slayer per esempio non prendono sul serio cioè questi sono musicisti che ancora insomma tra l'altro gli slayer ancora operativi anche se hanno sciolto il gruppo ma comunque adesso si riformano sono musicisti che hanno avuto una carriera ok raccontando nelle loro canzoni notevolissime temi terribili ma sempre con la consapevolezza adulta col relativismo adulto di qualcuno che non confonde la fantasia con la realtà ecco invece questi ragazzi commettono secondo me l'atto più sbagliato che si possa commettere quando si parla di horror di temi quali il satanismo di sacrifici umani e tutta questa roba qui e tutti i temi che fanno paura sono affascinanti e qui su broken stories lo sappiamo ma sono temi che appartengono alla sfera dell'immaginario e lì devono restare alla bellezza estetica che sanno sprigionare e lì devono restare quando li porti nella realtà si insozzano perché la realtà è una cosa sporca è una cosa complicata è una cosa insomma sappiamo bene che la realtà non è il regno della bellezza fantastica la realtà è quel posto dove le chiese bruciano davvero dove un pompiere perde la vita nel tentativo appunto nel lavoro di spegnimento dove uno di questi ragazzi che si fa chiamare faust che frequenta l'elvete uccide un uomo a pugnalate in un boschetto di oslo e dove gli attriti fra diciamo i due leader di questa di questo black circle cioè oysten e varg assumono dimensioni psicotiche assolutamente o comunque sociopatiche ecco mettiamola così quello che emerge dalla lettura del di lords of chaos secondo me è la figura di questo varg si chiama park bickerness che beh è un po la 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 cellula impazzita e che produce un tumore un cancro all'interno di questo gruppo perché appunto è colui che non solo vuole fare musica ma vuole proprio insomma incarnare tutte queste questi temi fantastici questi temi dell'immaginario e li porta a un livello politico li porta a un livello di devastazione reale fino a diventare quello che poi viene riconosciuto come un po il pericolo pubblico numero uno in norvegia in quegli anni la storia finisce molto male non è una novità probabilmente lo sapete e anche nel film lords of chaos viene annunciato fin dall'inizio dalla voce narrante di oysten la storia finisce molto male perché questo varg assassina il suo ex amico oysten in una forma di psicosi veramente di 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 non saprei come definirla ma in una bolla ecco in una bolla di idee strampalate devastanti da cui questi ragazzi non riescono a uscire oysten harcett perde la vita a 25 anni ed è il secondo membro dei mayhem ad andarsene perché prima ancora quando ancora non erano che ai primi passi si è tolto la vita l'altro ragazzo pelle detto dead che dead diventa davvero si suicida si toglie la vita questa è una storia veramente si era tolto la vita e poi ci sono altri strascichi che sono veramente terribili tutto questo mentre questi pazzoidi e questo e questo il contrasto che mi ha sempre affascinato è questo questo aspetto questi pazzoidi questi ragazzi ingenui anche un po stupidi diciamo la verità ma stupidi come si è spesso a quell'età ecco inventano qualcosa che artisticamente ha un valore perché il black metal che possa sembrarvi una schifezza oppure no è comunque un genere musicale nuovo innovativo che da lì in poi attira molta attenzione viene amato da tanti ascoltatori non tutti sono pazzi anzi diciamo la verità all'interno di questo movimento esistono delle sì quelle che vengono documentate da lords of chaos sono delle correnti di estremismo politico di destra che si aggregano si attaccano si inziccano proprio intorno ad alcuni gruppi band musicisti ma il problema di lords of chaos è che non parla della musica e non parla e non mette abbastanza in evidenza secondo me il fatto che questi sono fenomeni che comunque col passare del tempo risultano marginali risultano marginali e bisogna essere coscienti del fatto che in ogni ogni cosa soprattutto se è un po estrema se è un creativamente intransigente ecco dove c'è intransigenza dove c'è ismo i pazzoidi gli estremisti i dissociati i disagiati beh emergono sì emergono e questo è un genere musicale che comunque fa leva su emozioni molto intense emozioni tra l'altro negative intendiamoci che però al loro interno contengono anche una forma di potenziale catartico secondo me quando ascolti un bel disco black metal scateni e sfoghi tutta una serie di tossine psicologiche ed emotive dopo stai meglio ecco per alcuni questo è catartico per altri diventa 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 un manifesto proprio esistenziale che è troppo ecco è troppo quando non c'è punto la capacità di mettere in prospettiva di staccarsi dall'arte e di vivere anche nel mondo ecco l'impressione che si ha leggendo questo libro e approfondendo l'argomento è che forse questa è la mia impressione appunto ci siano state due 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 anime quella di hoist e narset che comunque approfittava direi in maniera molto opportunistica anche no delle cose brutte che accadevano intorno al suo circle per ottenere poi prospettive di successo come artista come musicista e che quindi ha esagerato sia esagerato ma in qualche modo teneva ancora i piedi almeno un piede nel mondo reale cioè la prospettiva la sua idea era faccio tutto questo faccio sensazione poi abbiamo successo ma grande successo l'altra è che ci siano appunto invece c'è un'altra anima quella di un altro musicista che appunto è questo varg che invece trasforma tutto nella sua che giustifica tutte diciamo le sue i suoi moti interiori devastanti e distruttivi con una bandiera prima artistica poi politica questo signore questo ragazzo si è fatto 21 anni di galera per aver assassinato euronimus in maniera brutale e per aver bruciato le chiese per aver dato vita a tutta questa pazzia in un certo senso insieme anche agli altri e ci mancherebbe altro e adesso continua a come dire a giustificare a scrivere anche libri a fare video in cui parla di queste sue idee abbastanza diciamo eccentriche ok limitiamoci a dire eccentrica quello che mi piace di Lords of Chaos è che sicuramente racconta molto bene la vicenda dei Mayhem quello che non mi piace è che poi si perde in alcune considerazioni ma fantasiose tanto quanto i testi dei pezzi black metal e cioè si ricollega un certo una certa corrente della psicologia per o della psicanalisi forse dovremmo dire per ipotizzare che le divinità del nord da Odino a Tora Loki eccetera eccetera siano degli archetipi appunto quasi proprio junghiani che sopravvivono nell'immaginario collettivo e che attraverso questi ragazzi abbiano trovato una valvola per tornare nella realtà per ristabilire cercare di ristabilire almeno in una piccola comunità una nuova battaglia contro il cristianesimo contro la nostra società basata su valori completamente diversi da quelli degli antichi vichinghi sì perché il satanismo di queste band e di alcuni di questi intellettuali del black metal trova poi una propria evoluzione nell'odinismo nel ritorno al culto pagano chiamato asatru cioè degli antichi dei scandinavi è tutto talmente folle è tutto talmente assurdo talmente oscuro talmente pasticciato che vi devo dire la verità a me continua ad affascinare questa storia mi continua ad affascinare che l'arte spesso o comunque speriamo non tanto spesso debba passare attraverso delle persone decisamente opinabili dei ragazzi che si che hanno delle idee così così di una magnitudine artistica secondo me tanto basta che in in essa si perdono si perdono creano qualcosa di troppo grande di più grande di loro e lì in un certo senso questa estasi creativa li li dissolve però è nella natura della creatività che a volte questo sia che sia vero cioè che sia vero che la passione artistica ti può distruggere tipo distruggere può cancellare qualsiasi altro aspetto della tua vita può diventare totalizzante è un pericolo che gli artisti spesso hanno corso e alcuni soccombendo sì forse è questo che mi attira di della vicenda della nascita del black metal ma anche di questa musica in generale anche a me a me piace è questo che mi attira e questo forse che attira tante persone il black metal è una forma musicale che promette di regalarti sensazioni proibite nella nostra attuale società nella società dei consumi nella società dei beni materiali in cui però a tanti giovani ma non solo giovani perché io non lo sono non lo sono più a me ecco a tante persone viene a mancare invece una un afflato spirituale o comunque quello che si potrebbe definire anche esoterico badate io non credo a niente di tutte queste faccende esoteriche satanismo rituali eccetera ma sicuramente tanto meno lo sciamanesimo per dire ma sicuramente posso riconoscere la fascinazione che possono il fascino che esercita su esercitano su una parte ancora esistente di noi uomini progrediti materialisti che pagano le tasse che fanno i finanziamenti che si comprano la tv 59 pollici o quel che che vanno su internet è però qualcosa il mistero la magia dell'inconoscibile ma anche gli impulsi più devastanti distruttivi antisociali esistono dentro di noi allora benissimo per quanto mi riguarda il fascino di queste forme artistiche che magari usano come simbologia lui no il diavolo vedete ambrose beers dizionario del diavolo è sempre stato così è sempre stato così c'è sempre stata questa simbologia ecco allora tutto questo mondo a me sembra molto interessante perché in una chiave simbolica permette all'uomo moderno contemporaneo e materialista comunque di ecco di accarezzare e di blandire quella parte di sé che non risponde alle invocazioni della pubblicità televisiva e non si fa bindolare del tutto e questo è il punto secondo me di questo tipo di musica ed è il motivo per cui se siete interessati alla storia dei mayhem di come nasce in norvegia il true norwegian black metal ecco vi consiglio assolutamente una lettura molto inquietante che è lords of chaos che devo dire purtroppo si perde in alcune elucubrazioni punto jungiane che non hanno nessun fondamento scientifico ma sono proprio ipotesi che secondo me servono a suggestionare il lettore e poi si perde nella descrizione di tanti come dire microcosmi di estrema destra intorno al quale alcune cellule impazzite del black metal che pensano secondo me poco alla musica e molto ad altro si sono poi attaccate ecco badate che questa è la seconda edizione risale se non sbaglio a primi anni del 2000 se non al 2000 stesso quindi da lì in poi ragazzi sono passati tanti anni e da lì non c'è più non c'è più alcuna attestazione di come si sia evoluto il genere che si è evoluto molto e si è evoluto a tal punto che oggi è stato un po assorbito no è stato metabolizzato il true norwegian black metal è un prodotto tipico locale della nazione norvegese esattamente come in altri posti è la barbabietola da zucchero o il caffè e una cosa veramente che mi ha colpito molto è che per esempio il disco dei dark throne uno dei primi gruppi degli primi anni 90 no di questo movimento un disco molto bello che si chiama blaze in a northern sky oggi è esposto nella biblioteca nazionale norvegese di oslo accanto a opere importantissime dell'identità nazionale nei secoli questo dovrebbe farci pensare un ragazzo per meglio dire un gruppo una conventicola di ragazzi estremisti confusi sballati hanno creato qualcosa di nuovo un nuovo genere musicale ragazzi non è proprio facile inventare un nuovo genere musicale per niente e questo va riconosciuto a oisten arset agli altri nonostante tutti i disastri e nonostante la tristissima fine appunto di oisten ecco quindi il problema di lords of chaos di michael mohenian e didrick soderlind un americano l'altro norvegese e che proprio si concentra un po troppo sull'aspetto criminale sull'aspetto true crime senza soffermarsi mai su quello musicale artistico che è molto rilevante invece avrei molto apprezzato delle analisi delle innovazioni musicale musicali che questi ragazzi sono riusciti a creare ma forse non ne avevano neanche le competenze per questo invece vi rimando al bellissimo documentario metto qui sotto in link sulla nascita di questo genere è un documentario in norvegese con i sottotitoli in inglese buon divertimento ora quindi lords of chaos è questa cosa qui è un libro opinabile criticabile ma estremamente affascinante pieno di dati pieno di interviste di di ricerche riportate di documenti che sono flyer di promozionali dei di alcuni gruppi e di alcuni gruppi estremisti dall'altra parte insomma è comunque un libro che ti lascia un'impressione un'impressione durevole durevole una emozione devo dire proprio un po di di sconforto sì per questi ragazzi che hanno sbagliato hanno sbagliato di brutto mentre però dall'altra parte indovinavano tantissime cose è incredibile e poi la presenza di questa quella che io ritengo appunto la cellula impazzita che fa implodere il tutto e che porta confonde moltissimo l'immaginario fantastico con la possibilità di farlo vivere nella realtà ma il discorso è sempre lo stesso l'immaginazione e l'immaginazione e la realtà e la realtà certe cose devono restare prudentemente separate perché fantastico si insozza a contatto con la realtà è così e la realtà si insozza a contatto con certo fantastico intendiamoci davvero un bel libro è davvero una storia molto triste molto triste ma sono passati 30 anni e il black metal è ancora qui e questo ed è si è evoluto moltissimo e questo comunque beh se volete mi porta un sollievo questi ragazzi uno suicida l'altro assassinato hanno creato qualcosa qualcosa che resta e effettivamente non tutti possiamo fregiarci della stessa dello stesso risultato grazie a tutti